E' stata ritrovata senza vita nelle acque del torrente Boite a Cortina una 38enne di Galzegnano Terme di cui non si avevano più notizie da quasi un giorno. Elisabetta Carmignano era in vacanza con i genitori, ospite di un campeggio della frazione Campo a Cortina e si era allontanata dalla roulotte. Il corpo è stato ritrovato da una squadra di soccorritori, i familiari hanno lanciato l'allarme e alla ricerca della donna hanno partecipato il soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore, con due cani molecolari, uno arrivato dal Val Pusteria, oltre alla guardia di finanza di Cortina e Euronzo i vigili del fuoco e i carabinieri.